Posseduti da questa società Euro Milano che è un'azienda che si occupa di comprare terreni, di costruirci sopra facendo progetti e di rivenderli, quindi di fare tutte queste tre cose contemporaneamente. In questo terreno, che è sempre stato un terreno agricolo, ha progettato di fare un nuovo quartiere da 20.000 abitanti. Questa questione è legata ad Expo perché da qui al 2015, prima, questo sarà la sede del villaggio Expo. Poi sarà la parte fondamentale di quello che è il grosso disegno spetturativo di Expo, che è quello che succederà su queste aree dopo Expo. Era interessante quindi, da questo punto di vista, fare questo incontro come incontro di inizio, di questi tre giorni, perché rispetto a tutte le tematiche che stanno dentro questo camp, che sono certamente anche tematiche ambientaliste, tematiche che riguardano l'autocostruzione, e quindi anche l'autocostruzione del SER, esiste anche tutto un discorso, che è quello che poi porta avanti, principalmente dal Comitato No Expo, di diritto al suolo e di autodeterminazione dei cittadini del suolo che abitano. Rispetto a questo, l'interesse di questo progetto sta proprio nel fatto che il frutto principale dei lavori, dei contenuti che stanno qui all'interno, riguardano questa cosa. Lo fanno facendo esempi, facendo discorsi che non riguardano che a tutti se lo mi hanno, ma riguardano le diverse città, perché quello che accade qua è qualcosa che accade adesso, in grossa parte del mondo occidentale, in cui il tipo di economia, in maniera economica predominante, quello che adesso stiamo assaggiando anche noi, è proprio quello di ricostruzione di città, e all'interno di questa ricostruzione esiste tutta una serie di regolamentazioni che si vengono imposte appunto dall'edificazione, da come queste città vengono strutturate. Grazie. Grazie.